Beltrami Eugenio, nato a Milano, sono laureato in veterinaria, sono imprenditore, ho aperto una pensione per animali al Parco Nord di Bresso e io effetto disegni praticamente sul cellulare, poi vengono stampati su tela canvas e vengono poi rifiniti con gel acrilico, tintura con anche finiture di polvere per antiquari. La mia opera si intitola divenire di incomprensibili frantumazioni, rottidoni, perdurante, lucida, insensata follia. È un po' un richiamo al perché di questa esistenza, come mai siamo qui. A volte penso in qualche modo, tra virgolette, sia un po' una follia in senso buono. Spero che piacciono le mie opere e spero di poter arrivare alla fine.